Un gradito ritorno a Varese è quello di Gianluca Porro, intanto Gianluca sarai l'allenatore della Juniors Nazionale, ti abbiamo visto emozionato e ti vediamo ancora adesso emozionato. No, è bello, è bello tornare in un progetto nuovo, è bello tornare anche raccogliendo delle sfide perché come abbiamo sentito stasera c'è da, tra virgolette, sfidare una piazza nel senso che bisogna riconquistarla e la riconquista è di per sé una sfida. Quindi credo che però ci siano le persone giuste nei posti giusti, ripeto Gianni Califano è una garanzia, io ho avuto la fortuna e il piacere di giocarci insieme e veramente è una garanzia, il mister è, penso forse, no senza forse il migliore elemento che potessero scegliere e meno male che ha accettato perché c'era da aspettarsi, enzi sicuramente aveva avuto altri corteggiamenti, Andrea Scandola e Stefano Almirante sono due persone con cui ho avuto il piacere di lavorare a Milano City, sono due persone, anche loro molto valide e Stefano che comunque è il cuore pulsante diciamo, quindi è un bel ritorno, non vedo l'ora di iniziare, è una bella sfida da raccogliere a completa disposizione della società. Sei consapevole che, l'ha detto prima, una parte importante saranno i giovani, i giovani ovviamente che saranno inseriti nella prima squadra, però la Juniors è lì sotto e quindi tu hai anche il compito di formare subito qualche giovane magari già pronto. Guarda, ti dico una cosa, non è per fare il finto modesto, però negli ultimi due anni di Unione Nazionale a Milano City 14 giocatori sono arrivati in prima squadra, quindi questo è l'obiettivo, formare i ragazzi e fra l'altro con l'idea già di costruire anche sotto per gli anni a venire, perché poi bisognerà dotare questa società anche di un settore giovane l'intero.